Ragazzi, devo dire, questo luglio è già particolarmente caldo, ma il fuego delle offerte del Prat Day... Mmm... Godday! È proprio proprio incendiario! Ricordatevi di diratarvi, se no finite male. Nice! Comunque ragazzi, siamo a un giorno di evento, in descrizione trovate ovviamente i nostri canali Telegram, stanno selezionando offerte per voi, solo le cose migliori in assoluto, dalla casa all'hardware, quindi di per sé offerte per tutti. Dovete sapere che durante gli eventi uno dei miei sport preferiti è guardare che cosa comprate. Ovviamente non posso sapere chi compra cosa, però posso sapere che cosa abbiate comprato, perché, beh, è una questione di referra all'interno, così Amazon mi dice quello che sto vendendo, no? Ad ogni modo, privacy rispettata, questa è la parte importante, avete demolito, demolito, delle offerte in maniera significativa e siamo qui per commentarle insieme. Partiamo! La prima di queste cose mi fa stare bene, perché una delle offerte che avete acquistato di più non è hardware, ma è un ammorbidente dell'allenor. Complimenti ragazzi, siete i più puliti e profumati del quartiere. Ok, vediamo insieme un pochettino delle offerte che avete acquistato maggiormente, sono molto curioso. Per esempio, vorrei sapere lo stato di salute mentale della persona che ha comprato 4 4060 in un unico ordine. Cioè, cosa ci devi fare con 4 4060? 4 piccoli pc? Vuoi metterle insieme? Fai mining? Per favore? Ho bisogno di risposte. Cosa fai con 4 4060? Hai tipo 4 figli e li fai 4 pc per giocare a Fortnite in maniera equa? Fai gare di over? Cosa ci fai con 4 4060? Vabbè, ad ogni modo te le sei prese e le hai prese pure a un buon prezzo, perché erano in offerta. Erano le gigabyte, quindi molto bene. Un'offerta che avete letteralmente distrutto, devastato, spaccato, annichilito, proprio portato al dimenticatoio e imperfetto dell'essere. E sicuramente l'X Gaming 4K monitor 28 pollici, che è un monitor 4K a 28 pollici appunto, che è 60 Hz, quindi di per sé non troppo per gaming avanzato. Però al tempo stesso costava 114 euro. L'avete mandato nel dimenticatoio di Amazon. Ne abbiamo venduti così tanti, che fondamentalmente sono finite penso le scorte per il resto dell'anno. Saranno contenti questi della X Gaming. Nonostante il monitor non abbia niente di gaming, però ci sta. Sempre parlando di gaming, un'altra offerta che avete sicuramente apprezzato tantissimo è stata quella della 4070, che in realtà diciamo che questo evento qualche scheda video ce l'ha avuta. Nel senso, oltre a questa 4070, che è uscita a 473 euro circa, devo dire prezzo piuttosto onesto per una scheda da 1440p, in aggiunta a queste si sono trovate anche diverse 7800 XT a ottimi prezzi, come per esempio la Dual di Sapphire, che è arrivata a 468 euro. Un prezzo veramente pazzesco, soprattutto considerando quanto può spingere come scheda, anche leggermente meglio della 4070 in raster puro. Quindi di per sé un ottimo acquisto. Qualora sia ancora disponibile quando esca questo video, fateci un pensiero, perché è veramente molto interessante. Oh, ok. Ragazzi, che cazzo è che ha comprato una sella? Ma non è una sella da moto, è una sella da cavallo. Ragazzi, ma è in mezzo alle schede video. C'è probabilmente quest'ordine cumulativo con altre schede video. Chi è che ha comprato una sella? Per favore, se sei la persona che ha comprato una sella e stai guardando questo video, per favore potresti gentilmente commentare e dirmi che tipo di stile di vita hai, in cui probabilmente hai preso una 4070 e una sella da cavallo nello stesso ordine. Ho troppe domande e poche risposte, ti prego, commenta. Ragazzi, siete allucinanti. Vorrei fare delle domande all'uomo, la persona, l'individuo, che ha preso 5 monitor, fermi tutti, 5 monitor in un colpo solo, ultra wide da 34 pollici. Cosa devi farci? Sono pure curvi. Cosa devi fare? 360 gradi, devi metterli uno davanti all'altro, hai 5 figli e vuoi fare 5 postazioni, hai un eSport Palace. Cosa ci fai con 5 monitor uguali? Ma poi sono dei quad HD, 34 pollici, e te li sei portati via a 299 euro. È un ottimo prezzo. Anche perché è un 160 Hz. Onestamente hai fatto un ottimo affare, ma perché avevi bisogno di 5 monitor, precisamente? Sono commosso. Fatemi un fischio se sapete il perché. Magari mi sfugge, magari, non lo so, fa impilamento competitivo di monitor, non lo so, magari vuole fare il monitor curvo più alto della storia. Ci sono varie opzioni. Sono anche molto contento di vedere che la scheda madre più venduta in assoluto con oltre 50 pezzi è la B650 Tomahawk. Ci sta, cioè è proprio un'ottima scelta. Già dai tempi delle B450, la Tomahawk era un'ottima opzione, ma vederla adesso in B650 così venduta, soprattutto perché probabilmente avrete approfittato del fatto che costasse 194 in offerta, ma ci sono i 20 euro di Steam che potete riscattare dopo l'acquisto. Onestamente avete fatto tutti quanti un buon affare e l'avete vista lunga. Quindi bravi, bravissimi, così vi voglio, alla ricerca di veri affari durante il Prime Day, senza dover spendere 10 milioni di euro in cose inutili. E già che ci siamo, giudichiamo insieme il PC più acquistato di questo Prime Day per il momento. Poi magari faremo un video in futuro, nel prossimo More The News vi dico qual è la build più acquistata in assoluto. Però per il momento, devo dire, sono molto orgoglioso di voi. In realtà è una scelta un po' particolare, ma sono molto orgoglioso di voi. Per quanto riguarda le schede video, è in dubbio. L'RX 7800 XT2 Sapphire è la più venduta. Ma ci sta, ragazzi. Cioè, il prezzo è veramente inarrivabile. Era sotto i 470 euro, letteralmente una roba mai vista. E la Sapphire 2, all'oltre tutto per i consumi di una scheda del genere, è una buona custom. Quindi di per sé, avete fatto bene. Sono molto orgoglioso di voi. Oltre a questo, Nvidia. Ci sono due best seller in questo evento. Da una parte la 4070 Windforce, e su questo non ci piove. Cioè, 473 euro per una 4070. Mi avete sfrantumato l'apparato testicolare per tutto quanto l'anno, cercando di dirmi, Ehi, ci porti una scheda video da 1440p sotto i 500 euro? Sì, come se le creassi e vendessi io i prezzi. Però, effettivamente, è uscita. Ve l'abbiamo proposta e l'avete comprata. Quindi siete degli uomini di parola. Ovviamente, avete fatto un buon affare. Ad accompagnarla c'è la 4060, ma credo che questo dato sia stato particolarmente influenzato dal folle che ne ha prese 4. Cioè, nel senso, non è che abbia influito più di tanto, tipo un 10%, però di per sé, comunque, è notevole come cosa. Andando avanti con il vostro PC più acquistato, devo dire, ovviamente, indovinate che cosa c'è all'altezza del case. Ci sarà un H6 Flow? Ci sarà un Gambias? Un Empire Gaming? O una qualsiasi altra di quella roba che c'è in offerta su Amazon? Ci sarà il miglior qualità-prezzo? Fante XT Pro, che non è nemmeno in offerta, ma è comunque competitivo? Ovviamente no. Ovviamente c'è il Corsair 4000D, perché fondamentalmente, io credo che Corsair, a un certo punto della sua storia, abbia detto, ehi, abbiamo un po' troppo acciaio da parte, facciamo dei case a forma di 4000D e li tiriamo fuori dal palazzo, perché, letteralmente, non mi spiego, non mi spiego come da cinque anni questo case sia il best-seller a ogni evento. Cioè, è pazzesco. Veramente, piace a tutti, però hanno capito quello che voleva il mercato, l'hanno servito, ed è per questo che stanno venendo remunerati. Bianco e nero, in entrambe le colorazioni, è il case più venduto di questo evento, e devo dire... Io ho il 5000D e vi capisco. Cioè, è un case molto interessante, poi avete un supporto da 280 in top, qua ho un 360, perché la versione è grande, e quindi... Vi capisco, davvero, vi capisco. Ottima scelta. L'estetica di queste paratie è una figata. Ok, il 4000D è un bel case, però ricordatevi una cosa. Stay hydrated! No, ok, non c'entra niente questo. Ricordate di comprare le ventole, perché effettivamente ha soltanto due ventole, una in fronte e una in estrazione. Ve ne servono almeno quattro su un case di questa portata, nella parte frontale, per massimizzare l'airflow del vostro case, specialmente se scegliete un dissipatore a liquido, effettivamente vi aiuterà molto. E ci sono i pacchetti di Thermalright, Cooler Master, di tanti altri brand, che potete recuperare a meno di 20-25 euro per un set da quattro, quindi scegliete bene. Vabbè, la prossima componente, diciamo che è un po' ridicolo dirvelo, cioè siamo arrivati all'ambito degli SSD. Dovinate qual è l'SSD più venduto del Prime Day? Oh, sarà Samsung? Sarà Micron? Sarà Kingston? No, LSK PINX Platinum P41. Da quando è uscito in offerta la prima volta durante il Prime Day dell'anno scorso, chiaramente non abbiamo mai smesso di venderlo. Letteralmente uno dei migliori SSD in circolazione, ce l'ho in sette diverse build, nella versione proprio da 2TB, e anche voi vi trattate bene con questo specifico taglio, il più venduto in assoluto, decine e decine sono uscite da questo. Affiliate, bravi ragazzi, ottime scelte. Devo dire, per adesso sono molto orgoglioso di voi. Parlando di processori, in realtà non è che ci sia stata una grande scelta, nel senso che sono andati in offerta i processori di Intel. Precisamente il 14700K a 289€ l'avete distrutto, non è durato tipo 10 minuti. Il 13600KF a 219€ l'avete demolito, non è durato 5 minuti, ma il 7600 è anche lui lì che se la lotta, nonostante non sia nemmeno in offerta, perché comunque quando un prodotto è buono lo comprate a prescindere nella vostra indole acquisitiva bulimica praticamente di prendere tutto quello che vi serve, dato che ci siete, comprate anche quello che avevate già nel carrello. Ci sta, alla fine. 7600 rimane uno dei processori più interessanti del mercato. Per quanto riguarda gli alimentatori, alcuni di voi hanno avuto un ottimo occhio, è uno degli alimentatori più venduti, ed effettivamente vi dico che sono molto contento di questa cosa, è la 650GL di MSI. vi spiego perché. È un alimentatore gold, ma soprattutto è in offerta a 79,99€, e questo è già un buon prezzo, ma MSI ci aggiunge la parte di 20€ di ricompensa Steam con lo shoutout, una volta eseguito l'acquisto. Quindi di per sé lo state pagando 59,99€, che era il prezzo che avevano prima gli alimentatori di questa fascia, un affare. Ve lo lascio in descrizione, se non è finito prendetevelo che vi togliete ogni pensiero. Per il resto ragazzi, in realtà sulle rame e sui dissipatori non avete proprio espresso una specifica preferenza, nel senso che ovviamente non è che ci fossero delle offerte particolarmente su cose. Sì, come al solito ci sono un po' più di vendite sulle Vengeance, ci sta, perché effettivamente stiamo parlando comunque di un modello che di solito scende sotto una certa fascia di prezzo e interessa a molti. Molti stavano aspettando delle DDR5 intorno ai 100€ e sono arrivate. Quindi di per sé le offerte le abbiamo messe. Però anche per esempio per quanto riguarda i dissipatori, non è che ci fossero delle offerte pazzesche, quindi di per sé capisco se non avete fatto gli acquisti folli. Gli acquisti folli invece li avete fatti, sapete su che cosa? I robot aspirapolvere. Io ragazzi non vorrei dire ma potremmo essere ritenuti colpevoli di aver incrementato la pulizia media delle case in Italia perché abbiamo venuto talmente tanti robot aspirapolvere tra Roborock, Ecovacs, Philips e altri che effettivamente credo che chiunque in casa per colpa nostra abbia un robot aspirapolvere, ma bravi, perché oggettivamente tenere la casa pulita è importante. E soprattutto, ricordatevi, stay hydrated! Ok, però prima vi ho detto che c'era un oggettino, un po' dubbio che avete comprato in massa. Io vi voglio bene, ok? Metto giù questa premessa, come se fosse un matrimonio fallimentare che stiamo cercando di salvare. Vero? Mi spiegate perché tipo 25 persone hanno comprato sto coso? Cioè voi mi dovete contestualizzare, questo lo voglio vedere in commento alle vostre postazioni, in che postazione questa cosa stia bene? È un gaming headset stand, ovviamente RGB, che sembra fondamentalmente un calippo di luce appoggiato sulla base più tamarra della storia con la possibilità di caricare fino a due telefoni. E poi ci appoggia anche le cuffie, giustamente. Oppure ci ricarichi le cuffie. Cioè, allora, prima di tutto mi fa ridere l'immagine perché preferiscono far vedere che ricarichi il telefono piuttosto che tu ricarichi le cuffie. Già questo è un controsenso, però ci facciamo andare bene tutto. Lo potete aggiustare in più colori. Wow! Ragazzi, sono commosso, non sono più orgoglioso di voi. Dopo questa, però per il resto siete stati bravissimi. Canali Telegram rimangono giù in descrizione a vostra disposizione per il resto dell'evento e vi ringrazio comunque tantissimo per il supporto che ci state dando in questo evento, ma comunque anche in generale col canale, le views sono in aumento, noto sempre più interesse, ci sono più interazioni genuine da parte vostra, lasciate sempre commenti e di questo vi ringrazio tantissimo. Se la qualità del prodotto che stiamo proponendo continua ad aumentare e voi proporzionalmente l'apprezzate di più, vuol dire che stiamo facendo bene qualcosa. In ogni modo, grazie ancora, grazie per il supporto durante questo evento, i canali Telegram sono a vostra disposizione. Giù nella descrizione di questo video stanno selezionando le offerte per voi. Per il resto, per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo, voi state su Marden Tech. Ciao!